Il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, ha nominato i nuovi direttori generali delle direzioni della Giunta regionale. Il consigliere di prospettive Lucane, Carlo Tarrotola, nel ringraziare per il lavoro svolto i direttori uscenti, formula i migliori auguri di buon lavoro a coloro che sono stati chiamati ad assolvere incarichi di grande responsabilità. Il suo auspicio è che tutti si adoperino con dedizione e competenza per garantire il miglior funzionamento della macchina amministrativa della regione Basilicata. Per l'esponente politico, l'efficace ed imparziale esercizio delle funzioni dirigenziali rappresenta una valenza strategica di fondamentale importanza. Occorre, dice Tarrotola, fornire risposte concrete ai cittadini e rilanciare la nostra meravigliosa terra lucana, soprattutto in previsione della gestione dei fondi del PNRR e della necessaria ricostruzione del tessuto economico e sociale martoriato dalla pandemia. Grazie. Grazie.